Palizzo Stefanini si torna al palazzetto dello sport, una sfida importante interna questa volta contro il Pomezia una gara, ne parlavamo a microfoni spenti, non semplice per l'ASPA Allora, no, non semplice perché come potrebbe far intendere la classifica potrebbe essere una partita in realtà semplice ma non lo è perché comunque Pomezia ha già affrontato squadre di vertice come la Saet, come il Genzano quindi questo punteggio basso è dovuto anche a questo aspetto qua e sicuramente sarà una partita abbastanza complicata Qualche rientro per l'ASPA ma anche qualche assenza, soprattutto quella del palleggiatore Mancini squalificato nell'ultima sfida con Velletri, può essere un'assenza pesante e decisiva quella di Mancini? Beh, sicuramente è pesante perché comunque rientra tra i compagni che comunque hanno esperienza quindi anche nella gestione del gruppo e soprattutto dal punto di vista tecnico comunque il palleggiatore titolare l'assenza si farà sentire però Marco proverà a fare del suo meglio insomma Rientra anche Maldera, questa è la bella notizia Sì, rientra anche Maldera, speriamo, facciamo i dovuti scongiuri e non so se sarà assente però purtroppo Matteo Olivastri, l'altro centrale perché anche lui ha qualche guaio fisico e niente, quindi cerchiamo di arrivarci nel migliore dei modi possibili E ci arrivate in modo positivo perché avete ottenuto la vittoria la prima del campionato nell'ultima partita dall'alto perdeva le 2-0 in quel di Velletri poi avete vinto al tie-break questo è un'iniezione di fiducia anche in vista della partita che affronterete sabato al palasetto dello sport si stanno vedendo dei miglioramenti da parte della squadra? Allora, vincere fa morale sempre e comunque il morale dei ragazzi a fine partita era abbastanza alto perché è stata una propria battaglia cioè una partita durata più di due ore e mezza vincerla è stato bello è stato molto faticoso dal punto di vista mentale perché è stata una partita nervosissima anche per gli arbitri è stata molto nervosa però sicuramente è un'inizione di fiducia abbastanza grande e il miglioramento allora lo si vede perché i ragazzi cominciano un po' a capire l'importanza di quello che stanno facendo mi aspetto ancora qualcosa in più dal punto di vista puramente tecnico giocato quantomeno per i fondamentali che dipendono da loro e tutti gli errori che possiamo gestire noi in prima persona poi se l'avversario è più bravo battiamo le mani insomma grazie a tutti